Primo test questa mattina per la nuova rotatoria all'intersezione fra Via Montereale e Viale Venezia. Nella giornata di ieri è stato modificato l'incrocio con la rimozione dell'impianto semaforico e la realizzazione provvisoria e sperimentale di una rotatoria con barriere tipo New Jersey. La sperimentazione durerà alcuni mesi e consentirà di testare la fluidità del traffico e la funzionalità. L'assessore comunale Bruno Zille. Stiamo attuando quello che è il piano della mobilità sostenibile, siamo intervenuti in questo incrocio che è il più importante in termini di numero di auto, di fatto qua sono 3.500 auto nelle ore di punta che girano in questa rotatoria. Abbiamo sistemato una rotatoria provvisoria proprio per poter testare la funzionalità. Stamattina con il traffico intenso ha dimostrato una buona fluidificazione del traffico e quindi lascia prevedere che una volta che l'avremo realizzata sarà sicuramente funzionale. Abbiamo stappato un altro punto della città dove c'era la congestione. Prevediamo probabilmente verso marzo la realizzazione dei lavori che dovrebbero concludersi entro giugno. Gli interventi che seguiranno riguarderanno appunto Piazzale Duca d'Aosta sul Ring e Largo San Giovanni, due incroci significativi per la città. Ma oltre a quello, ripeto, bisogna intervenire sulla Ponte Bana e quindi abbiamo in previsione di realizzare una serie di rotatorie in via Prasecco, in via Planton, via Dardago, dove sono interventi privati. L'altro incrocio importante è quello di via interna, su cui noi vogliamo intervenire, ma quello richiederà un po' più di tempo.